un saluto a Valle Lp e bentornata sui music fan ciao ciao a tutti grazie innanzitutto è bello trovarti e ritrovarti ma cosa rappresenta Lp guagliona nel tuo percorso artistico musicale beh sicuramente il raccoglitore musicale motivo di tutto ciò che ho sentito e compreso in questi due anni in cui la mia vita si è totalmente dedicata alla musica e appunto a sviluppare un mio linguaggio musicale capace di rappresentarmi per me significa tantissimo e sono contenta che sia per uscire finalmente e non vedo l'ora di scoprire cosa poi significhi per gli altri guarda io devo dire che in questo disco si avverte energia ma l'energia gestita con il giusto grado di consapevolezza ma quali sono i passi fondamentali che hanno portato alla creazione del progetto? Beh sicuramente le esperienze che ho appunto raccorto in questi due anni incontri specialissimi ci sono stati molti mentori ehm dietro questo disco eh molti incontri speciali con musicisti e non molte scelte importanti anche relative eh alla mia vita personale ehm e eh dunque sicuramente quello che è stato necessario il fisiologico per questo disco sono stati gli incontri lo ripeto è stata la cosa più importante ho eh consolidato il mio team musicale dopo comunque anni di ehm di esperimenti fatti in giro ovviamente ehm ad oggi mi sento soddisfatta perché appunto questo disco non è solo mio ma è di tutte le persone che con me eh l'hanno l'hanno scritto musicato sognato ideato e per me importanti sono stati gli incontri assolutamente ma incontri e secondo me proprio anche questa idea di consapevolezza che secondo me appunto se dobbiamo scegliere un brano si avverte davvero in maniera molto chiara nel nel brano tempo libero eh sì che anche l'ultimo brano del disco che rappresenta sicuramente un po' un ritorno al passato guardando al futuro e perché è comunque parla di di una storia ehm che come protagoniste ha due bambine che eh nel caso specifico si tratta della mia migliore amica del del mio paesino di Sparanise in provincia di Caserta dove sono cresciuta durante l'adolescenza ed è un invito a riflettere su quanto poi i sogni e eh anche gli obiettivi eh la dedizione e la disciplina spesso ehm ti portano lontano da un luogo e nella che puoi chiamare casa dove puoi anche riposare e non sentirti in dovere di essere nessuno a parte te stesso quindi sicuramente è un brano maturo perché giunge ad una consapevolezza che quando c'è la raggiungiamo a Iona come come me e un po' l'identikit rappresentato nel disco è una consapevolezza importante quindi a me mi ha fatto comprendere di eh del senso dedicarmi anche di più ai miei respiri e ai miei momenti liberi e ehm a non costruire la mia esistenza su chi voglio diventare ma su semplicemente su chi sono cosa sento assolutamente ma secondo me è importante anche andare proprio a parlare di quella di quella che è come dire la tracklist del disco perché secondo me chiaramente ha un senso la scelta della della scaletta delle delle canzoni ma allo stesso tempo è interessante proprio la circolarità perché secondo me alla fine dell'album viene proprio voglia di tornare all'inizio proprio per riprendere il discorso quindi amo questa circolarità sinceramente eh ti ringrazio è stata una cosa diciamo voluta inconsapevolmente perché come eh ti raccontavo anche prima questo è stato un disco molto fisiologico eh e per assurdo quasi i i brani si susseguono quasi in ordine cronologico per come sono stati scritti ed è per questo forse che anche inconsciamente eh eh nell'ascolto del disco c'è questa percezione di di continuità eh è un album che racconta a trecentosessanta gradi veramente ogni aspetto della mia ehm quasi passata giovinista cioè quasi passata adolescenza eh forte giovinizia che ancora sento su di me e e e poi adoro il fatto che 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 si percepisca questo perché anche la vita e i sentimenti le emozioni sono non sono per nulla lineari sono ritornano se ne vanno e non hanno età e dunque mi piace che che un disco del genere parli in questo modo. Senti ma qual è il messaggio invece che intendi trasmettere con il videoclip di fortuna perché a parte appunto il pezzo che è veramente decisamente interessante proprio anche dal punto di vista compositivo e secondo me mette molto bene in risalto anche quella che è la tua evoluzione ma mi devo dire che sono molto colpito anche dal dal videoclip quindi da questa da questa forma da questa idea comunque di condivisione che poi dovrebbe stare alla base della musica. Assolutamente c'è forte come già hai detto e specificato tu la condivisione l'unione il gioco di squadra e il fatto di farlo rappresentare comunque da delle donne eh quando il disco si chiama Guaiona che è un'accezione anche che che napoletano viene usata molto più spesso per i maschetti per i ragazzi eh e dunque è un album molto eh androgeno un album e anche eh il video in in questione ehm affinché un'idea possa riflettere su sull'umanità sulla persona stessa e non 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 trovi eh sviluppo in qualche cosa che eh delinea me o te per quanto siamo differenti ma bensì su quanto siamo simili e quanto tutti lottiamo e quando e in quanto tutti lottiamo eh verso la ricerca di un'identità e con superare gli ostacoli nel condividerlo con gli amici quindi era eh molto divertente farlo eh con fortuna a livello anche visivo con appunto il video che narra questa eh questo questa partita diciamo metaforica della vita dove appunto poi con il passaggio della palla che è un po' l'elemento eh distopico del video ci sono queste apparizioni con dei flashback che si riperiscono a dei desideri a delle cose che potrebbero non potrebbero accadere ehm che sono nella testa delle ragazze è stato molto divertente girarlo assolutamente anche perché le ragazze non sono delle attrici eh sono una squadra eh di Milano amatoriale dunque è stato bello proprio ancora una volta incontrarci e riuscire a regalarci entrambi entrambi emozioni cioè sensazioni ecco. Certo ma qual è invece il significato del brano Amma Fao Pop? Beh questo no no è giustissima è un brano in realtà per quanto divertente possa sembrare un brano molto profondo e anche impegnato eh racconta e questa è un po' una chicchetta racconta affidandosi un po' alla narrativa di Totò e Peppino il viaggio eh di queste due ragazze che partono appunto da in questo caso Napoli e migrano no? Come un po' la figura del Magliaro eh che è molto napoletana il Magliaro era quello che negli anni novanta partiva da Napoli e andava a Londra a vendere vestiti falsi e un po' Amma Fao Pop rappresenta questo concetto eh di queste due ragazze che partono un po' per Milano in questo caso perché è la mia comunque vita per inseguire il loro sogno sanno che si stanno per addentrare in un mondo molto difficile e anche disonesto diciamo e dunque ripetendo sul fatto che potrebbero essere abbastanza ancora piccole per avere una voce in capitolo ehm si stringono la mano e si danno l'obiettivo di divertirsi e quindi eh un po' la sorella del gatto e la volpe e un po' e e in quel mood là è un brano impegnato racconta anche di difficoltà e di paure parla del successo parla dell'impegno che ci vuole per fare questo lavoro e anche delle difficoltà che si possono incontrare soprattutto per dei ragazzi giovani come noi che poco ne sappiamo di imprenditorialità e tutto vogliamo solo divertirci ecco vogliamo solo fare il pop. Assolutamente ma nei giorni scorsi ciò che sei stata invitata per parlare del delicato tema della salute mentale un argomento come dire del quale si avverte comunque un riferimento anche nelle nelle tue canzoni del disco. Assolutamente da sempre sottolineo che la terapia è un percorso che a livello personale mi ha fatto crescere tanto e anzi è stato anche un po' il precursore è stato anche un po' precursore di quello che magari è la mia è il mio modo di esprimermi è la mia narrativa è il mio modo di farlo cercando di sviluppare appunto un linguaggio anche personale intimo che vada al di là di alcuni stereotipi di alcune di appunto di di una costruzione sociale è stato veramente importante per me poter discutere di questo argomento di farlo con dei ragazzi che sono uguali a me sono sentiamo tutti in genere quasi le stesse cose e dunque è stato molto importante è stato importante farlo anche in riferimento al disco che comunque è molto pieno assolutamente di pensieri e di considerazioni fatte a tu per tu con me stessa quindi che si possono rifare ad un luogo emotivo che può sembrare quello della terapia. Ma qual è l'aspetto dell'album che ti rende maggiormente orgogliosa? Eh beh questa è una domanda interessante mi rendo orgogliosa all'onestà dentro la quale eh sono riuscita a raccontarmi e mi rendo orgogliosa anche la poca egoriferenzialità che ha il disco perché nonostante prenda tutto spunto da delle mie storie ovviamente vissute eh di vita veramente eh non si pone mai l'obiettivo di dire appunto anche questo riferimento alla salute mentale io sono io ho voglio essere quindi un me la gaso perché ho ho fatto questo anzi pone molto di più l'occhio a tutto ciò che avviene dentro eh di noi eh che può essere molto più grande anche di di tutto ciò che poi accade quindi l'importanza di un nostro mondo interno eh rispetto appunto ad un mondo fatto di premi e di ehm e di oggetti da portare a casa che rappresentano chi siamo eh ho voluto che fosse un disco molto libero da queste connotazioni qui egoriferite ecco assolutamente concerto del primo maggio mi ami e poi eh poi abbastanza date in giro stiamo lavorando ecco allo scopo di questo disco è era e sarà sicuramente quello di suonarlo in giro per le persone perché ovviamente eh sarei pochi da non dire che che questo disco la differenza che 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 ha fatto anche per me l'ha fatto anche riferimento ai miei lavori passati è stata la consapevolezza che queste magari parole potessero arrivare ad altre persone che è anche la responsabilità che ne consegue dunque è quello che voglio e quello che desidero per questo disco che venga suonato che di poter avere molte possibilità di incontrare le persone che mi seguono da anni eh anche se pochine ma io le voglio incontrare tutte dunque mi auguro che possiamo suonare forte quest'estate mh e nell'inverno che verrà molto bene senti io non posso che ringraziarti ti auguro buona musica e speriamo di vederci molto presto anche da lì grazie a voi assolutamente grazie a te grazie